Special Age è il primo social network al mondo dedicato interamente alla terza età e si prefigge di donare gioia a coloro che accedono, a coloro che usufruiscono delle attività che il sito consente di effettuare. Aiuta moltissimo anche a combattere il decadimento mentale e aiuta molto anche a migliorare la qualità della vita delle persone e tutto sommato, dicono i medici, serve per allungare la vita. Quindi vi aspetto e vi formo tanti auguri.